Presentati questa mattina gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico e la manutenzione del fiume Metauro. La Regione Marche, assieme al Comune di Fano, come annunciato dall'Assessore regionale per la tutela del territorio Stefano Aguzzi, alla presenza del Sindaco di Fano Massimo Seri e dell'Assessore all'Ambiente Barbara Brunori, interverrà attraverso l'Ufficio tutela del territorio di Pesaro e Urbino, focalizzandosi, secondo il piano d'azione, sul tratto terminale del fiume Metauro, compreso tra la Focia Mare e il viadotto autostradale A14, per oltre due chilometri. La Regione Marche ha in atto una progettazione del valore di circa 900 mila euro, ha spiegato Aguzzi. Il progetto definitivo sarà pronto per maggio 2021. La procedura di gara d'appalto, che sarà impostata dalla Regione attraverso l'ex genio civile, sarà avviata ad ottobre, mentre l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo inverno. Desidero inoltre, ha continuato l'Assessore regionale, rimarcare la volontà di collaborare con il territorio e, in questo caso, con l'amministrazione comunale di Fano. Questi interventi di mattina li abbiamo chiariti e esplicitati. Sono un rafforzamento di tutti gli argini, un innalzamento anche in parte degli argini là dove sono più a rischio, la messa in sicurezza tramite anche proprio l'installazione di reti che impediscono agli animali di creare furi o così dissesto all'interno di questi argini, delle golene. Poi anche una pulizia complessiva dell'alveo, compatibile con una tutela ambientale, ovviamente, delle specie che lì vivono e vegetano, però che in qualche modo garantiscono anche un maggior flusso delle acque, diciamo così, garantendo minor trasporto di detriti, minor ammassamenti a ridosso dei ponti, del fiume, dei ponti che attraversano la statale e anche la ferrovia. Quindi una manutenzione complessiva che mira soprattutto la prevenzione prima di correre magari in soccorso di chi invece ha avuto un qualche problema, un qualche danno. Una serie di interventi che nascono da un confronto. Ho incontrato i cittadini di Tombaccia, ha spiegato l'assessore Barbara Brunori, con cui ho fatto un sopralluogo sul letto del fiume Metauro assieme a dei tecnici della regione. La loro esigenza era proprio di verificare quello che era stato l'ultimo intervento, che era stato incompiuto in alcune parti, e in quell'occasione abbiamo proprio scoperto questo progetto significativo di 896 mila euro, che è stato stanziato dal Ministero dell'Ambiente e mi sembrava giusto raccontarlo proprio per rassicurarli. Oltre a questo intervento ci sono altri tre interventi che la regione praticamente ha stanziato e quindi che verranno fatti. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di presidiare con una manutenzione di carattere ordinario sul metauro, che non sia solo su questo primo tratto della foce, ma diffusa perché poi il metauro riguarda un'intera vallata.